Oggi 13 dicembre la Chiesa Cattolica celebra la figura di Santa Lucia Vergine Martire, il cui culto è diffuso praticamente ovunque. Ad Adrano, nel monastero della Santa Siracusana, si sono svolte una serie di messe mattutine con il simulacro posto ai piedi dell'altare maggiore. Molti fedeli che si sono regati in chiesa per le celebrazioni eucaristiche che si sono svolte in varie fasce d'orario e portare un mazzo di fiori al simulacro della Santa, protettrice della vista. Accanto al simulacro di Santa Lucia, anche il teschio di San Nicolò Politi, nell'ambito dell'anno giubilare ormai agli sgoccioli in onore del Santo Patrono di Adrano. Oggi pomeriggio intanto alle 17.30, ultima Santa Messa della giornata. Ed è una festa per noi grande perché ricordiamo una realtà che non è finita ma che è giunta al suo compimento. Cerco di spiegarmi. La realtà grande è quella di Santa Lucia che è vergine e martire e quindi come tale è appartenente totalmente a Dio. Il martirio lei ha amato il Signore, Gesù, più della sua vita. Ecco la cosa grande che noi ricordiamo. Nel medesimo tempo questo è giunto al compimento perché Santa Lucia è viva, vive in Dio, vive con tutti i santi. Ecco perché non è un fatto semplicemente del passato ma è un fatto che è presente nell'eternità di Dio. Abbiamo anche quest'anno la gioia di avere con noi San Nicolò Politi. Cioè lui, sì, abbiamo il suo teschio che è una sua reliquia ma abbiamo soprattutto la sua presenza spirituale perché è un santo. E quindi tutti i santi vivono in Dio. Per questo noi siamo felici oggi di onorare Santa Lucia, vergine e martire, e San Nicolò Politi, eremita, che è una forma di martirio. Si è privato di tutto per essere con Dio. Ecco, padre Carmoggio, la figura di Santa Lucia è conosciuta in tutto il mondo. Dove sta la grandezza di questa santa? La grandezza di questa santa è dovuta, diciamo, alla storia, nel senso che non è l'unica martire. C'è Sant'Agata, Santa Cecilia, Sant'Agnese, ma essendo stata una delle prime martiri, è presente nel canone della Chiesa di Roma. Il canone è la preghiera eucaristica, oggi numero uno. E quindi dove si recita quella preghiera eucaristica si ricorda Santa Lucia. Ma c'è anche, diciamo, un particolare che nella letteratura, specialmente alla Divina Commedia, però, di Dante Alighieri, Santa Lucia è la prima collaboratrice della Madonna, in forza del suo nome, luce, e quindi guida. Poi abbiamo il suo culto diffuso anche nel nord Europa, specialmente nella Svezia. Per cui siamo con una santa che fa parte, diciamo, della stessa cultura del popolo. Non è qualcosa di lontano, ma è inserito nel modo di vivere, diciamo, della nostra gente. La cultura e la fede, collaborando insieme, creano un prodigio. Quale? La fede non è disincarnata, la cultura è illuminata.